Sono già trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge del Rio, che ha fatto nascere nei capoluoghi delle più grandi regioni d'Italia, le città metropolitane. A Torino l'esperienza registra luci ed ombre, che sono state analizzate durante un seminario, rivolto soprattutto ai sindaci, da Ires Piemonte. Questa mattina in Ires Piemonte si parla di governance delle città metropolitane. Una bella sfida. Cosa ne pensa Ires? Noi abbiamo cominciato la settimana scorsa con Torino e adesso andiamo sulla città metropolitana perché è una questione anche di multiscalarità. Per funzionare il governo regionale ha bisogno di tutti i suoi livelli di scala. La città metropolitana è una sfida, certo. È una sfida con poche risorse, ma è una grande sfida che bisogna affrontare. Professore, il ruolo dell'ente intermedio con questa riforma delle città metropolitane ha ancora valore? Certissimamente sì, per certi aspetti ancora di più. Io ho partecipato anche alla passata conferenza di cui parlava un momento fa il dottor Ferlaino. Prima ci siamo occupati di Torino, città e adesso ci stiamo occupando dell'area metropolitana. Ora emerge ancora una certa difficoltà a pensare metropolitano, però direi che gli interventi che abbiamo avuto finora sono all'insegna dell'ottimismo critico. Il grande problema della città metropolitana di Torino sono i tagli economici e le difficoltà finanziarie, mentre la grande risorsa sono le sue risorse umane. La città metropolitana sta trovando una sua dimensione funzionale ed istituzionale. Chiaramente le risorse sono ridotte, la riforma del Rio ha sottratto tantissime risorse alle città metropolitane, però l'attività di regia del territorio, di incentivazione dei servizi, di rete, di collegamento è un'attività fondamentale. Per questo la città metropolitana ha risorse umane e strumentali adeguate ed è questo il ruolo che stiamo cercando di disegnare. La politica comunque crede nella scommessa della città metropolitana e il vice sindaco metropolitano di Torino, Marco Marocco, lo conferma. Ci siamo, contiamo proprio di esserci in questa grande partita, una partita che ci porta come città metropolitana di Torino a svolgere un ruolo importante, soprattutto nel modificare la legge del Rio che ha bisogno di una modifica, di un tagliando, come si suol dire, e la città metropolitana di Torino è in grado, con l'esperienza fatta in questi due anni e mezzo, di poter contribuire positivamente nel miglioramento di questa legge. Dal presidente di Anci Piemonte, Alberto Avetta, viene la certezza di dover intervenire a livello centrale per modificare la legge del Rio e far finalmente decollare questo progetto strategico. È necessario aggiornare la legge del Rio istitutiva, perché bisogna tener conto anche dell'esito referendario, del fatto che il 4 dicembre il popolo italiano si è espresso, si è espresso in una certa direzione e quindi è necessario rivedere quella legge, ma rivederla tenendo conto anche delle cose positive che sono avvenute. Per esempio, io credo che l'elezione di secondo grado, cioè avere messo nelle mani dei sindaci il governo delle città metropolitane e delle province, sia stato un dato molto positivo. Oggi dobbiamo pensare certamente a recuperare le risorse, a fare in modo che ci siano le risorse per province e città metropolitane, ma dobbiamo anche fare lo sforzo di pensare anche alla parte strategica, a quali sono gli obiettivi strategici che vogliamo raggiungere attraverso lo strumento città metropolitana.